Ciao, sono Nicoletta Sono Francesca Valletti Sono Cristiana Conti Sono Michela Troia Mi chiamo Cinzia Castagnano Io sono Giulia Sono Maria Fasano Sono Alessandro Cascavilla Sono Patrizia Collesi Ciao, sono Marita Montella Ciao, sono Marco Terribili Ciao, sono Nicola I numeri vanno spiegati con un linguaggio possibilmente semplice Oggi la comunicazione viaggia soprattutto via web I social sono importanti Sono ambassadore di Istat perché credo fortemente in questo progetto Perché soprattutto in questo periodo storico Che siamo sommessi da una miriade di dati veri o falsi Che siano cercare di ridurre la differenza che esiste tra la percezione La realtà oggettiva dei fatti sia essenziale Ho aderito con entusiasmo fin dalla prima sperimentazione al progetto di Ambassador Perché credo fortissimamente in quello che l'Istat fa, quello che produce Soprattutto perché conosco i colleghi, conosco la professionalità di tutti Sono diventata Ambassador perché credo che sia fondamentale diffondere quello che facciamo e come lo facciamo Ho sempre condiviso i post, soprattutto le infografiche per diffondere quello che l'Istituto fa E quindi è per questo che ho aderito al progetto Ambassador Ho deciso di diventare Ambassador perché credo che sia il caso di amplificare le cose che facciamo O farle conoscere a più persone Se dovessi definire l'Istat con una parola lo definirei indipendente Data driven Reale Imparziale Innovativo Affinabile Dentro al paese Formativo Pubblico Imprescindibile Necessario Social friendly Perché senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione